L'alba sta sorgendo, salutate il nuovo giorno. Oggi parliamo di come impostare un primo ciclo con steroidi anabolizzanti. Prima di iniziare vi ricordo che io non sono un medico, questi non sono consigli medici, ma è tutto esclusivamente a scopo di intrattenimento. Ma iniziamo. La prima cosa a cui dobbiamo pensare è banalmente l'obiettivo. Persone diverse hanno obiettivi diversi. Se uno è un atleta, anche amatoriale, potrebbe avere come obiettivo quello di migliorare la propria prestazione. Potrebbe voler correre più veloce, essere più resistente, lanciare o saltare più lontano, eccetera, eccetera. Però la stragrande maggioranza che si approccia agli steroidi anabolizzanti lo fa per migliorare la propria composizione corporea, cioè in primis mettere su più muscoli e in secondo luogo dimagrire. Se le due cose sono fatte insieme, tanto meglio. Per cui oggi pianificheremo un ipotetico primo ciclo, proprio prendendo come obiettivo il miglioramento della composizione corporea. La seconda cosa a cui pensare è come comportarsi una volta finito il ciclo. Sì, ancora prima di iniziare un ciclo è bene pensare al futuro. Qui le strade da intraprendere sono due. O si fa blasting and cruising, cioè si fa il proprio ciclo con alte dosi di steroidi anabolizzanti. E poi, una volta finito il ciclo, si ritorna sotto TRT, cioè terapia sostitutiva col testosterone, per cui non si smette mai completamente di assumere steroidi anabolizzanti, ma si continua comunque a prendere almeno una piccola dose di testosterone. Oppure si fa una PCT, una post-cycle therapy, in cui si vanno ad assumere determinati farmaci per portare il nostro corpo a produrre di nuovo testosterone. Perché? Perché quando noi assumiamo ormoni esogeni, cioè presi dall'esterno, i nostri testicoli smettono di produrli. E una volta finito il ciclo, non vogliamo rimanere castrati senza testosterone, ma dobbiamo riattivare la produzione di quest'ultimo. Adesso, a mio parere, la scelta migliore è quella di fare blasting and cruising. Per più ragioni. Uno è che se una persona fa un ciclo con l'obiettivo di mettere muscoli, eccetera, e poi fa una PCT, nella stragrande maggioranza dei casi perderà qualsiasi guadagno per cui tanto vale. Cosa fai a fare un ciclo a fare per poi perdere tutto? Non ha senso. Come seconda cosa è che nessuno di solito si sente bene durante la PCT. Si passano magari mesi con sbalzi ormonali, depressione, zero energia, zero desiderio sessuale, eccetera. E questo, oltre a fare male proprio alla salute, perché questi farmaci hanno effetti collaterali, porta le persone, nella stragrande maggioranza dei casi, a tornare ad assumere testosterone. Quasi sempre. Non è veramente una dipendenza, come se parlassimo di sostanze stupefacenti, ma una volta che una persona ha provato, ha sperimentato cosa vuol dire avere alte dosi di testosterone, per esempio, smettere di prenderlo e tornare alla normalità è difficile. La vita sembra ad un tratto insipida, grigia, senza gusto, e nessuno ce la fa mai. Tutti prima o poi tornano sotto testosterone, perché ci si sente troppo meglio e si funziona meglio in tutti gli ambiti della vita. Non solo se parliamo di sport, palestra, eccetera, ma anche nella nostra vita sentimentale. Siamo più decisi, più capaci, meno timidi, più ottimisti. Siamo più bravi sul lavoro perché resistiamo allo stress, eccetera. In generale ci sentiamo più felici, ha un effetto antidepressivo forte, per cui tutti alla fine tornano sotto testosterone, perlomeno. E una cosa per cui consiglio fortemente a chiunque è di prendere seriamente in considerazione la possibilità che se uno inizia ad assumere steroidi anabolizzanti potrebbe essere qualcosa che si porterà avanti a vita. Se uno non è sicuro della scelta, se uno non è pronto a questa eventualità, gli consiglio fortemente di non assumere nessun steroide, non fare nessun primo ciclo, eccetera. Comunque, andiamo avanti e parliamo di quale steroide, quale ormone usare come primo ciclo. La mia scelta ricade sul testosterone e sul testosterone e basta. Perché? Perché, a mio parere, è sempre un'idea intelligente provare una cosa nuova per volta, cosicché possiamo capire veramente che effetti ha. Capire quanto ci fa mettere muscoli, quanto ci fa mettere forza, quanto ci fa mettere dimagrire, come influenza la nostra vita sessuale, come influenza al nostro sonno, eccetera. Così, alla fine del ciclo, riusciamo ad avere una nostra statistica mentale e capire se questo prodotto ci piace e ci viene voglia di utilizzarlo ancora in futuro, di prenderlo in considerazione per un futuro ciclo o no. Se, per esempio, io dico, oh sì, questo prodotto mi fa mettere muscoli, mi fa dimagrire, mi rende forti, mi rende felice, dormo bene, mangio bene, sono sempre allegro, dico, ok, questo prodotto mi piace, lo utilizzerò ancora in futuro. Se invece dico, no, questo prodotto non mi fa mettere tanti muscoli, non mi fa dimagrire, dormo male, sono sempre ansioso, sempre arrabbiato, non mi si alza neanche più il pisello, e allora no, questo prodotto non lo utilizzerò mai più. Per cui è sempre bene provare una cosa per volta, per cui si capisce bene cosa causa cosa. Se noi proviamo due cose al primo ciclo, capiamo cosa causa uno e l'altro? No, non cambiamo un cazzo, per cui è sempre meglio provare una cosa per volta. E perché proprio il testosterone? Beh, uno, perché il testosterone è necessario per tantissimi processi fisiologici. Se noi togliamo il testosterone e prendiamo solo qualcos'altro, staremo quasi sicuramente male. Due, il testosterone, essendo un ormone bioidentico, riesce a essere utilizzato bene dal corpo. Di solito ha pochi effetti collaterali e ha un buon effetto sulle persone. È uno dei prodotti più sicuri, più anche economici, se uno guarda al lato soldi. In generale è un prodotto molto studiato, molto conosciuto e, come ho detto, sicuro e funzionale. Per cui la mia scelta ricade su questo. Quale forma usare? Abbiamo visto in passato che c'è la crema iniettabile, eccetera. E dico che se uno vuole mettere su muscoli, il testosterone iniettabile è sempre meglio. Per cui io sceglierei il testosterone iniettabile. Con quale estere io sceglierei il testosterone enantato o cipionato, visto che hanno un'emivita più lunga, perciò garantiscono livelli più stabili, che ci danno di solito meno effetti collaterali ed è anche più comodo. Se uno usa, per esempio, il proprio nato, deve stare lì magari tutti i giorni a iniettarsi il testosterone, diventa pesante, diventa fastidiosa velocemente la cosa. Col testosterone enantato e cipionato questo non succede. Quante iniezioni farsi a settimana? Io direi di iniziare con due iniezioni a settimana, tipo lunedì e giovedì. Classicissimo. Se poi vediamo che magari convertiamo più in estrogeni, eccetera, provare ad aumentare la frequenza di iniezione. Convertiamo troppo in estrogeni e vogliamo invece diminuire questa conversione in estrogeni per avere livelli più stabili, bene, proviamo a iniettare, a fare tre iniezioni a settimana, eccetera. Passiamo adesso alla dose. Quale dose fare? Tante guide su internet in cui dicono adesso vi insegniamo a fare il primo ciclo, partono subito con 500 mg di testosterone enantato a settimana. A mio parere personale questa non è la scelta migliore. Perché? Perché il nostro corpo spesso non è in grado all'inizio di utilizzare una determinata dose. Gli steroidi, se parliamo di questa cosa, funzionano in maniera un po' particolare. Al contrario di altre sostanze, se noi per esempio prendiamo l'alcol, noi beviamo e più beviamo più il nostro corpo ha bisogno di una dose più alta per avere lo stesso effetto, perché sviluppa una tolleranza, per gli steroidi questo non è vero, anzi funziona più il contrario. Noi abbiamo un determinato numero di recettori per gli androgeni nei nostri muscoli, nel nostro corpo. E più alta è la dose che utilizziamo, più il nostro corpo crea nuovi recettori. Per cui quando noi andiamo a utilizzare il testosterone per la prima volta, non abbiamo tanti recettori per gli androgeni. Per cui se prendiamo una dose troppo alta, il nostro corpo non riesce neanche ad utilizzare questo prodotto, tutto il testosterone che prendiamo in maniera efficiente. Per cui, a mio parere, è meglio iniziare con una dose più alta, aspettare che il corpo si adatti, crei nuovi recettori e pian piano aumentare la dose, in modo che il nostro corpo riesca a utilizzare il tutto nella maniera più efficiente. Se noi andiamo a prendere una dose troppo alta di testosterone, che non usciamo a utilizzare, questo testosterone finisce per andare in giro a caso per il corpo e ci può causare quella che è chiamata testosterone flu, cioè influenza da testosterone. Se qualcuno ha già provato in passato, sa di cosa parla, in pratica uno prova il testosterone e inizia ad avere tipo sintomi influenzali, non si sente male. Adesso non sono sicuro della cosa, ma tanti ipotizzano che sia proprio questo il motivo. Una dose troppo alta che il nostro corpo non riesce a usare. Per cui, io direi di iniziare con una dose di 250 mg di testosterone enantato o cipionato a settimana. Poi, dopo 4 settimane, perché di solito dopo 4 settimane l'enantato o cipionato arrivano alla massima concentrazione nel corpo, iniziare ad aumentare di 50 mg a settimana, fino ad arrivare a 500 mg di testosterone enantato o cipionato a settimana e poi per il primo ciclo fermarsi lì. Basta. Quanto invece portare avanti questo ciclo? Io direi qualcosa che sia dalle 12 alle 16 settimane, cioè 3-4 mesi. Da cosa decidiamo se fare 3 o 4 mesi? Da come ci sentiamo, a mio parere. Se noi iniziamo a avere problemi col sonno, problemi con l'ansia o questo o quell'altro, direi a un certo punto, direi, buono, basta, 12 settimane e poi usciamo per recuperare, per tornare a stare bene. Se invece ci sentiamo benissimo, ci sentiamo dei leoni, va tutto bene, dormiamo bene, mangiamo bene, miglioriamo fisicamente, portare questo ciclo fino anche a 16 settimane senza problemi e poi uscire e andare in TRT. Detto questo, proviamo a parlare un attimo dei possibili effetti collaterali. Adesso, il principale effetto collaterale che possiamo avere con un ciclo di testosterone nel nostro primo ciclo riguarda gli estrogeni. Gli altri problemi probabilmente non li avremo. Non avremo problemi con la prolattina, non avremo problemi con quasi nessun'altra cosa. Ma la cosa più probabile è invece incontrare problemi con gli estrogeni. Questi possono voler dire o la sensibilità ai capezzoli, con i capezzoli che magari diventano duri e iniziamo a sviluppare una certa forma di ginecomastia o magari iniziamo ad avere troppa ritenzione idrica che ci fa fatica anche a respirare o ci si gonfia la faccia troppo o iniziamo ad avere problemi con la sessualità. Questi sono un po' i tre maggiori sintomi che possiamo riscontrare. Poi magari ce ne sono altri. Magari siamo un po' più ansiosi, troppo agitati, eccetera. Se allora abbiamo problemi con la sensibilità ai capezzoli, abbiamo troppa ritenzione idrica o le nostre erezioni iniziano a diventare più deboli o eccicare la libido, a mio parere per questi motivi è sempre meglio avere sotto mano un po' di eczemestano che è un inibitore dell'aromatasi. Adesso ci sono tanti inibitori dell'aromatasi in commercio ma a mio parere il migliore è l'eczemestano perché è quello più salutare e con meno effetti collaterali. Inoltre è un suicidal inibitor, cioè si lega all'enzima aromatasi e lo disattiva in maniera permanente. Al contrario un anastrozolo, per esempio, disattiva l'enzima aromatasi ma poi quando finisce l'effetto si stacca e l'enzima torna in circolazione e i nostri estrogeni possono schizzare in alto una volta che abbiamo interrotto l'uso. Per cui per me l'eczemestano è la scelta migliore. Di solito le pillole sono da 25 mg. Questa dose da prendere tutta in un colpo solo è abbastanza alta, per me è una cosa migliore. Quello che è meglio per me in questo caso è iniziare il ciclo senza prendere nessun inibitore dell'aromatasi perché gli estrogeni ci faranno mettere tanti muscoli, ci possono fare anche stare molto bene e invece gli inibitori dell'aromatasi hanno effetti collaterali, possono ridurre la nostra qualità di vita, possono anche essere non salutari per niente, eccetera, eccetera. Per cui se tutto va bene io direi di non prendere nessun inibitore dell'aromatasi. Qualora invece qualcuno inizia a avere problemi con la sensibilità ai capezzoli o la vita sessuale, iniziare con una dose bassa, per esempio 6,25 mg di eczemestano al giorno fino a che i sintomi scompaiono e poi smettere di usarlo. 6,25 mg sono un quarto di pillola. Poi, non è che smette una volta smesso di usare, probabilmente se non si va a intervenire sul lifestyle, questi effetti collaterali possono tornare. Per cui andiamo a riprendere ancora l'eczemestano e guardiamo più o meno quanta dose ci serve a settimana per stare al meglio e non sviluppare quegli effetti collaterali e poi fermarci lì. Cioè il mio consiglio è di fare un po' di trial and error, un po' di prove per trovare la dose più bassa possibile di inibitore dell'aromatasi che basti a non farci venire determinati effetti collaterali e non prenderne di più. Perché, come ho detto, gli estrogeni fanno mettere. Muscoli aiutano tantissimo. Per cui troviamo la minima dose possibile sempre che ne abbiamo bisogno per avere la migliore qualità dell'erezione e non avere nessuna sensibilità ai capezzoli. Non di più. Il minimo indispensabile. Questo è, a mio parere, un primo ciclo ideale. Poi, ovviamente ci sono tantissime altre cose a cui pensare e è impossibile fare tutto alla perfezione, tutto giusto la prima volta, specialmente se non abbiamo esperienza. Se abbiamo qualcuno che ci aiuta e magari riesce a prevedere perché ha più occhio, ha più esperienza, tante cose, è meglio, no? Avere, ovviamente, qualcuno che ci segue per la prima volta va bene, ma altrimenti si impara con l'esperienza. Si fanno qualche errore, pace, non muore nessuno e la prossima volta si farà meglio. Facciamo un piccolo riassunto molto veloce di quello che per me è il miglior primo ciclo. Parliamo sempre dei grandi numeri, per la maggioranza della popolazione, non per tutti, ovviamente. 1. Fare dalle 12 alle 16 settimane di ciclo dipende da quanto stiamo bene o male. 2. Scegliere come prodotto il testosterone enantato o cipionato. 3. Partire da 250 mg a settimana, mantenere la dose costante per le prime 4 settimane e poi aumentare di 50 mg a settimana fino a raggiungere i 500 mg di testosterone enantato o cipionato a settimana in totale e fermarsi lì. 4. Fare dalle 2 alle 3 iniezioni a settimana. Dipende come ci sentiamo. Se notiamo che convertiamo troppo in estrogeni, aumentare la frequenza delle iniezioni. 5. Avere sempre sotto mano l'exemestano che è un inibitore dell'aromatasi e prendere se e prenderlo solo se necessario. Cioè se abbiamo sensibilità ai capezzoli o ci si gonfia nei capezzoli, cioè se abbiamo una ginecomastia o se le nostre erezioni iniziano a diventare più deboli. Altrimenti non prendere nessun inibitore dell'aromatasi e se comunque è necessario prenderlo, prendere la dose minore affinché ci faccia scomparire i sintomi mai di più. Partire da 6,25 mg di eczemestano ogni giorno fino a che scompariano i sintomi e poi fermarsi lì a quella dose. Non andare più in là. Detto questo, questo è il mio primo ciclo ideale. Ovviamente non sto consigliando niente a nessuno. È tutto a scopo di intrattenimento come abbiamo visto. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Scrivetemi nei commenti come ne pensate. Parlatemi magari dei vostri primi cicli. A volte sento persone parlare proprio con la gioia al cuore di quanto si siano goduti il loro primo ciclo, di quanto è stato bello. Altre volte vedo persone invece che hanno avuto esperienze terribili perché magari hanno assunto qualche personale trainer eccetera che gli ha prescritto un ciclo disastroso che fa schifo e si sono sentiti di merda. Ne ho visti tantissimi. Alcuni che hanno usato solo orali, alcuni che non hanno usato una base di testosterone, delle cose terribili. Fatemi sapere comunque, se volete, se vi va, la vostra prima esperienza con il ciclo di steroidi anabolizzanti, parlando del pro e del contro, io sarò felicissimo di leggermi, farmi qualche risata o magari maledire qualche personal trainer incapace. Detto questo, a me non mi rimane che ricordarvi che quando si desidera ardentemente qualcosa, essere avvolti dalle fiamme non è poi così male e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.